Mai diciamo a parlare questo piano che ha quasi circa di 14-15 milioni di euro al anno per svolgere solo il nostro territorio e rispetto a quale noi vediamo atto che abbiamo qua anche il provviso nominato sulle professionalità, sulle conferenze, le potenze che hanno intorno a nominare, amministratore del consorzio, l'amico Salvatore Precio, anche lì, insomma, nominata sulla competenza e priva di qualsiasi significato politico, insomma. E quindi anche lì, una situazione delicata, una situazione presa sotto cappa, una situazione che deve essere affrontata e che un rinforzo, ma non è lì, alla gestione arminata, che è la precedente amministrazione proprio in a sullevare il Consiglio Comunale, una situazione strada di partite dei minori e dei minori, la gestione arminata, comunque, che sono partati dentro al suo anno, e la gestione arminata, comunque, ma la gestione arminata è ancora in sospesa e nulla, nulla, invece, dalla nuova informatica, si capisce solo che si deve fare la gestione, però, in realtà, si capisce bene come una gestione vuole volersi, nulla è da domani. Quindi, per tutti i giorni, che diremo qui, per adesso, a voi, il prevedere, il prevedere, il partito dei votati, e votare in uso il Consiglio Comunale 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 Comunale. Grazie, signor Presidente. Grazie. Grazie. Grazie.